Ciao a tutti! Con questo primo video Arabbook inizia un ciclo di brevi videomessaggi destinati a tutti coloro che vogliono imparare o rafforzare la lingua araba. Arabbook è una libreria virtuale specializzata in editoria in lingua araba e ci trovate appunto in rete digitando arabbook.it. Tra le varie sezioni di questa libreria virtuale trovate anche la sezione per la didattica e l'apprendimento della lingua araba dove appunto stiamo a suggerire o a consigliare alcuni testi per l'apprendimento dell'arabo. In particolare oggi vedremo un libro di una casa editrice spagnola che è quella di Al-Buhaira perché questa casa editrice ha un approccio molto comunicativo per quanto riguarda appunto la didattica dell'arabo e questa casa editrice ha pubblicato vari volumi ogni titolo di questi volumi si richiama all'acqua. Per esempio il volume che andremo a vedere oggi albirka che significa stagno oppure alain che è la fonte, annahar che è il fiume, ashallal che è la cascata quasi a voler ricordare che come l'acqua è fonte di vita anche la conoscenza è fonte di vita. Andiamo a guardare oggi il libro che si intitola albirka, cioè lo stagno e albirka è destinato allo studente di arabo nella sua fase iniziale dell'apprendimento della scrittura e della lettura in lingua araba. Diciamo che questo testo rappresenta un po' la base da cui partire per proseguire verso l'acquisizione del livello A1 e andiamo a guardare un attimo questo testo. Sin dalle prime pagine lo sfogliamo, è un testo che si compone di circa 120 pagine, ne sfogliamo qualcuna, all'inizio troviamo il sommario con tutti i contenuti e quindi gli obiettivi, quindi i contenuti e anche le attività. Per esempio si parte dall'unità 0, le unità sono 6, dall'unità 0 che ci aiuterà a familiarizzare con il verso della scrittura, da destra verso sinistra, quindi tutti esercizi per la grafomotricità. Per passare poi già all'unità 1 che raggruppa e presenta alcune lettere dell'alfabeto arabo. Queste unità suddividono le lettere in base alla loro forma, alla loro grafia, quindi raggruppano le lettere in base alla somiglianza dei vari grafemi. In questo gruppo per esempio dell'unità 1 abbiamo la lettera Ba, Ta, Fa, Nun e Ya che più o meno presentano la stessa grafia. La stessa cosa troviamo per esempio nella terza unità dove andiamo a leggere le lettere Jim, Ha e Ha che hanno anche queste lettere la stessa grafia, quindi associano quelle lettere in un solo gruppo, quelle lettere che si somigliano, associano quindi in un gruppo quelle lettere che si somigliano per facilitare la memorizzazione. Andando avanti, sempre sfogliando questo libro, nell'introduzione possiamo trovare alcuni cenni sulla storia e la geografia della lingua araba sulla differenza tra arabo classico e arabo comunicativo e a grandi linee diciamo le caratteristiche dell'alfabeto arabo, perché poi subito già nelle prime pagine troviamo una griglia che presenta le lettere dell'alfabeto arabo nelle loro posizioni isolate, iniziale, posizione isolata, posizione iniziale, posizione mediana, posizione finale, poi c'è la colonna della denominazione della lettera, cioè del nome della lettera. Queste lettere poi nelle varie unità verranno poi sviluppate. Ci sono anche degli accenni alla punteggiatura, ai numeri arabi e anche a come bisogna usare questo libro. Al Birka offre allo studente la possibilità di scaricare dal sito della casa editrice Al-Buhaira gli audio e i materiali audiovisivi e questo è possibile farlo gratuitamente. Inoltre ogni esercizio è contrassegnato da un'icona, eccole qua le icone che stanno a indicare quale abilità si svilupperà nell'esercizio che viene proposto, quindi questo per l'ascolto, questa icona per la scrittura, questa icona per la lettura, questa icona per la pronuncia, questa icona per la conversazione, queste invece sono le icone delle lettere solari e delle lettere lunari e poi questa immagine che richiama a materiale audiovisivo. Sempre nell'introduzione c'è un piccolo schema per la traslitterazione internazionale, quindi per ogni lettera, qui ci sono i nomi in arabo delle varie lettere, come vengono trascritte a livello internazionale in caratteri latini. Procediamo e andiamo a vedere per esempio un esercizio come può essere strutturato, questa è l'icona dell'ascolto per cui siamo sicuri che dovremo ascoltare un file audio per poter pronunciare la lettera che viene presentata. La lettera che viene presentata poi, ecco qui l'icona della scrittura, viene proposta nella posizione iniziale, quindi lo studente dovrà esercitarsi a scriverla nella posizione isolata, scusate, questa è la posizione isolata, lo studente dovrà esercitarsi quindi nella scrittura delle varie posizioni, qui nella posizione isolata della lettera, qui nella posizione iniziale e via dicendo, nella posizione mediana, vedete mediana, eccola qui, e poi finale. Ricordano un po' gli esercizi di grafia per imparare a scrivere anche quando eravamo alla scuola primaria. E poi successivamente si passa all'altra abilità che è quella della lettura, con il riconoscimento della lettera in sequenze consonanti, come viene presentato in questo esercizio, oppure riconosce la lettera nelle parole in cui essa è contenuta. Il libro si avvale anche di molte immagini che aiutano la memorizzazione. A conclusione, quindi quando si sono completati tutti gli esercizi di tutte le unità, si può veramente dire che lo studente ha acquisito la strumentalità della lettoscrittura. Per avere informazioni su questo testo, vi ricordiamo che potete contattare a questo indirizzo gli operatori di Arabbook, siamo anche alla pagina Facebook di Arabbook.it e vi auguriamo soprattutto di iniziare a studiare per chi già lo ha fatto. Auguriamo un buon proseguimento!